Uno degli eventi più importanti dell'estate ungherese è la traversata del Balaton. Quest'anno la 42esima edizione è iniziata alle 7 di domenica mattina. I partecipanti dovevano iniziare la corsa di 5,2 km a Refulop fino all'altra sponda di Balaton Boglar. L'evento si sarebbe dovuto svolgere sabato, ma è stato rinviato di un giorno a causa del tempo incerto. La temperatura esterna era di 20 gradi Celsius al mattino, ma l'acqua era tra i 25 e i 27 gradi. Anche se si tratta di una competizione, la maggior parte delle persone partecipa per divertimento, per gareggiare con se stessa. Chi ha completato la distanza totale ha ricevuto una medaglia a Balaton Boglar. Più di 11.000 persone si sono iscritte all'evento quest'anno. I due uomini più veloci hanno completato il tragitto nello stesso momento, in un'ora, un minuto e 54 secondi.